cari amici buongiorno a tutti oggi 20 febbraio iniziamo con il monitoraggio primaverile alle beccacce la primavera è arrivata come potete vedere la primavera è arrivata ma è rimasta pur sempre la siccità l'inverno è stato molto avaro di precipitazioni e soprattutto di neve per cui non so come andrà sto ripasso speriamo bene una buona giornata a tutti e una buona domenica a dopo un'altra domenica a dopo un'altra domenica a dopo bravo bravo chuno 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.